Musica E' importante, abbiamo visto che comunque molte persone stanno avvicinando per chiedere informazioni e qui vi occupate, oltre che dell'informazione, anche di acquistare ad esempio, non so, le bibite, le bevande, sono dei voucher? Sì, ci sono dei ticket appositi per poter acquistare sia le bevande che il menù o i classici panini che si fanno durante le feste Quindi anche un modo per invogliare la persona a bere e mangiare ma soprattutto aiutare chi è salto? Stavo dicendo proprio questo qua, che poi sono tutte cose che servono all'autofinanziamento dell'associazione perché questo è un festival che non percepisce alcun finanziamento pubblico e quindi ci sostengono gli sponsor che hanno abbracciato il progetto e in più ci autofinanziamo attraverso la venda del cibo e delle bevande Oltre che del merchandising, perché so che da qui a qualche metro c'è il merchandising che quest'anno è molto ricco perché addirittura ci sono gli zaini Sì, ci sono gli zaini, i cappellini, i diari, le agende, le maglie che sono il pezzo forte dello store, le sacche, insomma un po' di tutto L'importanza di questo evento a livello calabresa, a livello locale, ma penso anche come esempio, appunto perché siete un'associazione che ha deciso di istituire questo festival non basandosi su finanziamenti pubblici, è un esempio e comunque cosa chiede il Cleto Festival oltre all'inclusione che ci ha detto la Presidente prima? Chiede appunto il sostegno delle persone che hanno capito l'importanza di questo progetto perché questo progetto è nato proprio con l'idea di valorizzare questo centro storico che nel corso degli anni stava subendo oltre che uno spopolamento l'abbandono più totale e sia per noi che per gli abitanti del posto vedere queste viuzze del centro storico rinascere è un qualcosa di veramente speciale Perfetto, io ti ringrazio, come ti chiami? Gianluca Gianluca, sei? Dell'associazione della piazza, sì Benissimo, ok, Riccardo Cristiano, Liberi TV Cleto Grazie